Trieste ha una scontrosa grazia. Se piace, è come un ragazzaccio aspro. No! No! Trieste è una donna, nonno. Io l'ho vista. Ogni notte, la vedo svegliarsi. Lei esce dal mare e, schiacciando il pulsante segreto, lei evoca tutti i pesi che è del mare. Ma che bei sogni fai, piccolina. Davvero ti piacciono? Allora te ne racconto cento! Appena uscita dall'acqua, lei se ne va a passeggio per le strade assonnate. Arriva la primavera! Sono belle le rondini e volano così veloci. Qualcuna non abbastanza, nonno. Ciao, sono Maria Grazia Puscinotta. Aiuta anche tu, Trieste e Sogna, a diventare realtà. Partecipa al Cow Funding. come 2 постоянно, mi piacciono il cuore. Come più la musica, noi viitori e volto da cooldown coat. Come piçono con il rato! E la Esogna, a diventare realtà, è un'unmo Алекс' fingerprint, noi, è un'unmo eles ottamori quindi amissλιare realtà.